Fa caldo qui. Togliti il giacone. Ci siamo stati altre volte? Altro che. Questo lo immaginavo. Grazie. Gradite un po' di caffè? Ah, sì, volentieri. Un bel caffè, grazie. Luke, vuoi qualcosa da bere? Un'aranciata. Bene, caffè aranciata. Arrivo subito. Come vanno le ginocchia? Vanno meglio. Gli antinfiammatori stanno funzionando, te ne procurerò degli altri. Le previsioni dicono che potrebbe arrivare un'altra nevicata e sembra che continui nel weekend. Forse le tue articolazioni risentono del tempo. La prossima spedizione dovrebbe essere tra una settimana. La prossima spedizione. Bli antinfiamma. L Harmony, luca! Ultima! L'arriza! L'arriza! Vieni, andiamo via! Fermo! Fuori! Fuori! Fuori!